Buongiorno a tutti ragazzi stamattina sono le 7 andiamo in barca con Mario mamma mia c'è la barba e vado buongiorno a tutti allora prima di partire la barca ci facciamo un bel caffè e poi ci facciamo un bel idromassaggio prontissimi ragazzi non è che ci abbiamo qui c'è i gambe un po' che prenda l'auto di là 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 una manata che c'è una manata no poverina no si mangia però questa è quella letta che ho preso tira che ci farà un fuoco sta facendo il video oh poverina se la mangiava tutto eh due volte se la sono mangiata guardiamo guardiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.